Grazie Grazie Se avete bisogno di info abbiamo i nostri giudici di gara, i nostri organizzatori Rispondono alle vostre domande Una ventina di minuti circa Grazie Grazie Sì Motobattaglia Super Grazie 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 이런 grazie e ma adesso dici che riparte ancora con tutti i pochi non credo così dovrebbe uscire perché non esce se ne facciamo trovo aprire il pannello anteriore anche provo adesso a vedere si sta firmando e non va male ok ok ok